Una violenza quasi sconosciuta a queste latitudini. Il maltempo l'altra notte è stato devastante. Non solo per i tetti di velti o gli alberi e i pali della luce abbattuti. La provincia di Treviso già sta contando i danni di due ore di bufera con l'agricoltura messa in ginocchio. A Lovadine di Espresiano è stata distrutta la copertura delle piscine del centro nuoto ed è stato scoperchiato il capannone della buosi impianti. Dieci ore di blackout nella frazione di Visnadello. A San Polo di Piave decine gli alberi secolari sradicati. Sollevate alcune travi del tetto della palestra di Biadene di Montebelluna dichiarata inagibile. Lo scenario più surreale è quello di Asolo con quella grandinata anomala che ha imbiancato le strade del borgo. Il primo cittadino ha parlato ironicamente di notte bianca per un territorio flagellato. Palla in mano ha dato anche lui una mano agli uomini della protezione civile che hanno lavorato tutta la notte, sapendo però che sono stati ulivi, viti e ciliegi ad avere la peggio. Bisogna subito mettere in atto una grande opera di cura ambientale del nostro territorio, ha detto il sindaco, un vero piano di resilienza e mitigazione.